Ciao ragazzi! Bentornati su Mega Wow! Ehi raga, ma avete visto quante mystery box che stanno aprendo su YouTube? Ce ne sono di tutti i tipi! Beh, state sintonizzati perché anche io ne ho spedita una! E nei prossimi giorni arriverà a destinazione! Ne volete sapere di più, eh? Non posso anticiparvi nulla per ora, però guardatevi questo video di Lilla! Anche lei aprirà alcune scatole molto particolari! Ehi! Ciao ragazze! Ciao a tutti! Ciao Fiorellina! Ah, finalmente sei arrivata! Ma perché? Sono forse in ritardo? No, però ci serve una mano! Certo, sono qui apposta! Vieni, ti faccio vedere che cosa stiamo preparando! Dai! Guarda un po', Fiorellina! Abbiamo allestito la festa nel Luna Park! Così ci saranno le giostre e potremo diverterci un sacco! Wow, è veramente tutto fantastico! Eh, lo so, ho pensato tutto io! Adesso però dacci una mano! Ok, e che cosa vi serve? Beh, io stavo pensando, per un compleanno veramente pazzesco! Servirebbe una grande band di successo! Ce l'abbiamo? Eh, no! Vabbè, allora... Una torta veramente enorme! Ce l'abbiamo? Eh, no! Ma non abbiamo niente! Cosa possiamo fare? Eh, non lo so, posso andare a raccogliere dei fiori? Ok, ottima idea! Vai, 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 vai! Uff! Non abbiamo la band! Non abbiamo uno chef stellato che ci prepara cose buonissime da mangiare! Come faremo? Ehi, Sia! Perché sei così agitata? Questa festa sarà un disastro! Non abbiamo quasi nulla! Mmm... Oh, no! Ho un'idea! Dimmi, che cosa ti è venuto in mente, Sia? No, 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 no! Certo! Andiamo subito a prenderli e vedrai! Questo posto diventerà un altro! Ok, ed ecco, abbiamo questi stickers troppo carini, poi abbiamo questi brillantini e anche queste scottere a sorpresa! Oh, wow, Sia, ma sono tutte così carinissime! Ma scusami, dove le trovate tutte queste cose? Come dove le trovate? Ma le ho trovate l'altro giorno insieme a Lilla! Non ti ricordi? Non hai visto lo spacchettamento? Mmm, veramente no! Ma scusami, ma allora le Peppe Gemelle che dobbiamo festeggiare, tu non sai da dove vengono! Peppe chi? Le Peppe Gemelle! Attacchiamo gli stickers e ti racconto di tutte queste sorprese pazzesche! Ciao, Sia! Sai che cosa spacchettiamo oggi? Delle scatole piene di sorpresine di Peppa Pig! Fa vedere! No, ma guarda che carina! Praticamente è un pacchettino ed è tutto dedicato a Peppa Pig! Beh, ragazzi, se siete pronti a scoprire che cosa si nasconde qua dentro, io spacchetto! Ehi, sì, hai visto? Ci sono anche lettere e numeri! Che dici? Andiamo in ordine? Sì, andiamo in ordine! Uno! Andiamo a scoprire cosa si nasconde qua dentro? Questo è il primo pacchettino sorpresa! Proviamo a vedere che c'è qui dentro! Oh, una coroncina! Prova ad aprire il 2 dopo l'1! Agli ordini! Chissà cosa si nasconde qua dentro? Un sacco di prellantini colorati! Io li adoro! I glitterini lo sanno tutti! Sono adesivi e potete metterli dove volete voi! A questo punto sicuramente dobbiamo andare ad aprire il 3! Cosa c'è qua dentro? È la scatola regalo! Ovviamente questa scatola si può aprire e potete infilare dentro i vostri regali da consegnare ai personaggi di Peppa Pig! Questa della scatola mi è piaciuta un sacco! Vai avanti, siamo arrivati al... Uno, due, tre... Quattro, quattro, quattro! Le vediamo, aprendo... Wow, sia, guarda che bello! Ci sono delle alette e sono tutte glitterate! Ma veramente, guarda un po' come mi stanno bene come alucce! Sono troppo carine! Sì, in effetti ci stanno bene! Andiamo avanti con la casellina numero 5! Ecco qui un'altra sorpresa! Che carina, guarda! C'è una spazzola! Fammi vedere... Eh beh, sì, direi che funziona molto bene! Ah, come mi rilasso quando mi pettinano! Continua! No, no, possiamo continuare! Dai, ci manca ancora una sorpresa! Numero numero 6! Ah, è bello profondo! Sembra qualcuno che conosciamo! E infatti, guardate un po' chi esce fuori! Pada-da-dan! Ed è tutta glitterata! Pazzesca! C'è la nostra Peppa con un vestito delle feste! E grazie agli accessori che avete trovato all'interno della scatola potete decorarla per un compleanno degno di una piccola stella! Ed ecco qui tutte insieme le sorprese del primo pacchetto! Bene, questo è per noi il pacchetto A! Pronto? Sono Happy! Dunque, volevo sapere dove si trova il pacco che ho inviato ieri a... Ecco, proviamo ad aprire il pacchetto B e poi alla fine del video diteci qual è il vostro preferito! Il contenuto del A o il contenuto del B? Fatecelo sapere! Scartiamo anche questo! Uno, eccolo qua! C'è un pacchettino! È veramente divertente trovare questi pacchettini segreti! Ah, c'è un'altra spazzola! E allora anche se c'è scritto Peppa Pig me la posso prendere io, ma ecco... Due! Apriamo! Guardate qui, ho trovato degli adesivi, sono tutti in tema festa, festa di compleanno! Ci sono i regali, i giochi, la torta ovviamente! Andiamo a scoprire che cosa esce dal cassettino numero 3! Un pacco! Il nostro pacchetto per fare il regalo di compleanno ai nostri personaggi! Abbiamo aperto il 3 e dopo il 3 c'è il 4! Apriamo il 4! Oh, guarda! Delle altre luce! Guardate, le metto qui in alto e sì, siano proprio carine! Apriamo! Cosa sarà? No, ragazzi! Guardate quanto è carino! Un cappellino per le feste! Oh, è proprio bello anche questo! Eh già! Ed è arrivato il momento del numero 6! Chissà qual è il personaggio che si nasconde! Uuuuh! Ah, c'è una Peppa con il vestito da festa! Guarda, Peppa, c'è un'altra Peppa! Ma ho una gemella e non la sapevo! Eh, mi sa di sì! Ma no, sono io che ho una gemella e non la sapevo, scusa! Allora, per distinguervi, ragazze, vi metto il copricapo diverso! Tu hai già la coroncina? Eh sì! Mentre per te c'è il cappellino delle feste! Guarda un po' quanto è carino! Oh, si ti sta proprio bene! E adesso posso distinguervi! Tu sei la Peppa che è uscita dal secondo pacchetto! C'è il pacchetto B! Dobbiamo chiedere ai ragazzi di MegaWow che cosa hanno preferito! Eh beh, avranno preferito me! Eh, non l'ha detto! Poi leggiamo i commenti e vediamo chi ha vinto! Sono proprio curioso di sapere cosa preferiranno i ragazzi! Tu sia invece che cosa preferisci! Io scelgo la C! Sì, non c'è la C, c'è la A o la B? No, dicevo... Scusa, erano star muto! Non stavo facendo nessuna scelta! In questo momento non so bene scegliere perché adoro i brillantini! Eh già, a chi lo dici! Però trovo delizioso anche il cappellino festoso da festa! Eh beh, sì, e quindi? E quindi credo proprio che organizzerò una festa ma sorpresa! Quindi... Non capito com'è andata? Ah, ora capisco da dove vengono le tue gemelline! E' esatto, e questa sarà una grande festa sorpresa per loro! Guarda, che ne pensi delle decorazioni? Bellissime, super svegluciche! Guarda qui, ho messo un brillantino anche nella postazione del Balloon Ride! Ah, è super puccioso! Verissimo! Il tavolo dei dolci poi è pronto e gli invitati stanno arrivando! Tutto perfetto! Ah, ecco che arriva anche Fiorellina! Eccomi qui, ho raccolto un bel mazzo di fiori! Sentirà che profumo! Ma, ma, ma è solo un mazzo! Che vuol dire? Non è delizioso? Ma è uno! Qui dobbiamo festeggiare due gemelle! Casa? Ma tu non me l'avevi detto, mi hai parlato di Peppa! Sì, ma c'è Peppa e la sua gemella! Ah, e adesso? Sì, non ti preoccupare! Ho una sorpresa finale! Vedrai, rimarranno tutti sbalorditi! Uff, meno male! Ehi, 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 ragazze! Tutte a nascondersi! Stanno arrivando, le sento! Ehi, ciao, Sia! Siamo arrivate! Come va? Hai visto? Ci siamo vestite, come hai detto tu, con il nostro abito più sbrilluccico e copri capi da festa! Bene, brave! Avete fatto bene a seguire il mio consiglio! Anch'io sono vestita un po' da festa! Ehi, ma qui non c'è nessuno! Non c'è nessuno, ma fra 3, 2, 1... SORPRESA! Tutto questo è per noi! Ragazzi, la nostra prima festa sorpresa! Ma certo, è per darvi un grande benvenuto su Mega Wow! Allora, che ne dite? Fate un giro di giastra? Sì! Wow, che divertente! Ci stanno divertendo un mondo! Presto! Sorpresa finale! Corro! Allora, ragazze, vi state divertendo? Wow! Sì, troppo! Anche se mi gira molto la testa! Adesso cerco di stare con i piedi per terra, perché arriva la sorpresa più dolce di tutti! Quale? Oh, essa! Sia ci fa sempre fare i lavori più faticosi! Già, in effetti! Wow! Pazzista! Mai vista una torta così grossa? Che profumo! Ragazzi, all'attacco della torta! Sia, è stato tutto fantastico! Le decorazioni super carine! E la torta, wow! Immensa! Grazie mille, Fiorellino! Ma adesso non è più tempo di parlare, perché sai che dobbiamo fare? Cosa? Fiondarci sulla torta! Buon compleanno, ragazze! Ma è incredibile, ragazzi! In una scatolina così piccola ci sono dentro tantissime cose! Come il genio della lampada! E un minuscolo spazio vitale! Ragazzi, scrivetemi nei commenti a chi pensate che abbia mandato la mia mystery box! Continuate a seguirmi e iscrivetevi al canale! Ciao! 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 Grazie a tutti.